Tagli subito, senza se e senza ma, o per la casa divina provvidenza sarà il fallimento. L'appello è lanciato dalla congregazione delle ancelle dell'Opera Don Uva, che sino ad oggi avevano preferito stare a guardare l'evolversi degli eventi sulla crisi attraversata dall'ente ecclesiastico, non prendendo opposizione, anche quando magari ce ne sarebbe stato bisogno. Lo fanno ora, con un appello che sa di condanna per i centinaia di lavoratori che da mesi aspettano di conoscere il loro destino, diviso tra licenziamenti collettivi e procedure di mobilità. Un ulteriore allungamento dei tempi nella decisione di ridurre costi e personali dell'Opera Don Uva, fa sapere la congregazione, potrebbe nuoccere la procedura di concordato preventivo già avviata. La storia era rimasta ferma alla data del 4 febbraio scorso, quando un vertice al Ministero del Lavoro, tra i rappresentanti delle ancelle e sigle sindacali, sarebbe dovuto sfociare nella tanto sospirata ratifica dei contratti di solidarietà, in base ai quali i lavoratori accettavano l'autotassazione per salvare quella parte dei loro colleghi all'issio licenziamento. Poi un nuovo stop, che aveva riportato la trattativa alla situazione di partenza. E' necessario, ribadisce la congregazione, vista la situazione attuale, pervenire alla riduzione dei costi annuali per riportare in equilibrio economico l'attività aziendale, affinché il piano di riservamento risulti fattibile anche alla luce della procedura di concordato pendente dinnanzi al Tribunale di Trani, a seguito dell'istanza di fallimento formulata dalla Procura. Ripienare le perdite vorrebbe dire procedere alla riduzione dei costi delle forniture per almeno il 20% e alla riduzione del personale nella misura programmata. In questo senso, la congregazione si è detta disponibile a licenziare i soli dipendenti in possesso dei requisiti per essere accompagnati alla mobilità sino al pensionamento. Per tutti gli altri si farebbe ricorso ai contratti di solidarietà. I sindacati hanno dato il loro assenso, ma sperano comunque in un intervento della Regione. Il 12 febbraio è in programma un nuovo incontro a Roma per la ratifica delle procedure di mobilità. Oltre tale data e senza un accordo con le organizzazioni sindacali, l'ente ecclesiastico sarebbe costretto a ridurre il personale nel numero programmato, con grave danno per i lavoratori e per la stessa casa di vina Providenza, che da mercoledì prossimo potrebbe lasciare senza assistenza oltre 800 pazienti. Un finale drammatico da evitare a qualunque costo.